Benvenuti a meteogioliaci.it, dopodomani domenica 28 aprile la perturbazione numero 8 ancora insiste sull'Italia e porterà ancora piogge su quasi tutto il nord Italia e anche sulla Toscana, ma vediamo l'immagine della perturbazione alle ore 14 di dopodomani, vedete che ricopre gran parte del centro nord, tempo bello invece sulle regioni meridionali. Andiamo a vedere allora il tempo previsto per il mattino di domenica, vedete le piogge su quasi tutto il nord Italia, eccetto il Trentino Alto Adige e il Veronese, piogge anche sulla Toscana, sulle Alte Marche e sull'Umbria, qualche pioggia anche sulla Sardegna. Vediamo la situazione prevista per il pomeriggio, migliora su tutte le regioni centrali, migliora anche sull'Emilia Romagna, vedete piogge solo sulle regioni di nord ovest e anche sulle Venezie, nevicate a quote superiore a 1700-1800 metri. Andiamo a vedere le temperature, temperature che saranno ancora in calo rispetto a valori che avevamo ieri giovedì, ma su valori intorno a 16-20 gradi sul nord Italia, 20-23 al centro sud. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.